Ben trovati da Nikos di Trebi Meteo, osserviamo la tendenza per la giornata di giovedì, perché ancora il tempo sarà incerto, molto variabile al settentrione, c'è questa zona di bassa pressione oltre Alpe, quindi venti un po' umidi e freschi in quota che apporteranno ancora qualche piovasco breve temporale. Meglio il centro-sud, qui c'è l'alta pressione, ce lo conferma la prossima grafica, i cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutte le nostre regioni centro-meridionali, variabilità invece sulla Liguria, Alta Toscana e appunto al nord, con qualche spunto temporalesco, la prossima grafica ci fa vedere questa gran variabilità, non mancheranno momenti di sole con clima asciutto, ma attenzione perché special mattino e verso sera, isolati e brevi, fenomeni, temperature che al sud Italia raggiungeranno, anzi supereranno i 30-32 gradi, dettagli maggiori come sempre sull'app di Trevi Meteo.